Le videonotizie di distribuzione moderna In collaborazione con l'ente di ispezione e certificazione CCPB, Conapi ha avviato un protocollo volontario ambientale che mira a oggettivare e riconoscere attraverso uno specifico marchio l'impegno delle imprese per una maggiore attenzione alla tutela della biodiversità e alla sostenibilità ambientale, economica e sociale. Approved by Conapi Bees nasce dunque come strumento dedicato alle aziende di ogni settore che potranno sviluppare un proprio modello virtuoso prefiggendosi nel tempo obiettivi strutturati. Ne abbiamo parlato con Nicoletta Maffini, direttrice generale di Conapi Mielizia. Siamo molto orgogliosi di aver presentato oggi questo percorso che è un invito alle aziende di tutti i settori quindi non soltanto del settore alimentare ma anche settore tessile, arredamento, servizi insomma qualsiasi settore presente nel nostro paese non solo è un invito a fare un percorso utile per la salvaguardia della biodiversità quindi abbiamo pensato un marchio, studiato un marchio che vediamo ecco anche qui alle mie spalle dove sono proprio le api di Conapi a certificare le aziende in questo percorso virtuoso quindi ogni azienda che decide di aderire a questo protocollo che prevede delle azioni concrete nella direzione appunto della salvaguardia della biodiversità a partire dalla tutela degli insetti impollinatori la gestione delle arie verdi se ce ne sono nelle aziende stesse oppure l'adozione di arie verdi pubbliche l'informazione e la formazione dei propri dipendenti e il percorso diciamo che deve essere continuativo e migliorativo quindi non un percorso che ha una durata di un anno o due ma un percorso che prosegue nel tempo e che mano a mano che il tempo passa deve aggiungere un tassello in più in questa direzione quindi le api di Conapi approveranno le aziende che decidono di fare questo percorso virtuoso come abbiamo raccontato oggi abbiamo già due aziende in questo caso del settore alimentare che hanno aderito che sono Copro B Italia Zuccheri e Granarolo e quindi come Conapi Mielizia siamo molto orgogliosi di poter già annoverare due aziende virtuose in questo percorso che appunto vogliamo fare insieme le aziende che vorranno contattarci quindi avranno la possibilità di farlo liberamente attraverso la compilazione di un form che è presente sui nostri siti e noi stessi ci permetteremo di contattare una serie di aziende che riteniamo possano essere vicine a noi in questo percorso virtuoso